Paramahansa Yogananda Autobiografia di uno Yogi Yogananda Siete voi, Swami Pranabanda, Anhui? Sei il figlio di Bhagavati? Le parole furono pronunciate prima che avessi avuto il tempo di trarre dalla tasca la lettera di presentazione di mio padre. «Stupefatto, gli consegnai il biglietto di presentazione che sembrava ormai superfluo. Certamente troverò per te Khedarnat Babu». Il santo mi stupì di nuovo per la sua chiaroveggenza. Dette uno sguardo alla lettera e fece alcuni affettuosi apprezzamenti su mio padre. Commento Spesso il chiaroveggente è un telepata che legge le notizie esistenti nella mente dell'oggetto della sua chiaroveggenza.